Ciao ragazzuoli, ciao ragazzuoli, vi avevo detto che facevo un video, dunque, delle partite più top delle classifiche, delle prime 5, dunque, allora, oggi è giocato alle 15 Atalanta, Benevento Atalanta, e il risultato finale è 1 a 4, dunque un Atalanta che ha travolto il Benevento, dunque 1 a 4, il risultato finale, ma potevano essere di più. Il primo tempo, dunque, è stato un po' un campo abbastanza pesante, dunque, della pioggia, dunque, è stato un po' equilibrato, diciamo, dopo il vantaggio che ha segnato Ilicis, ha risposto Sau, dunque, ha inizio ripresa al cinquantesimo, dunque, poi, dunque, hanno segnato anche, poi, da quel minuto in poi l'Atalanta si è scatenata, dunque, dopo ha segnato il 2-1 con Toloi, e poi, subito, Zapata ha chiuso il discorso 3 a 1, dunque, poi l'Atalanta ha brilli e sciolte contro un Benevento, ormai demotivato, dunque, ha preso il quarto gol, è entrato anche Muriel, un tiro a giro alla Del Piero, dunque, ha segnato un 4-1, però non era proprio alla Del Piero, diciamo, ha tirato, ha segnato il 4 a 1, poi hanno avuto altre occasioni per fare il 5-6 a 1. Dunque, l'Atalanta espugna il Vigorito, dunque, di Benevento, 1 a 4, se non mi sbaglio, è il Vigorito, se non mi sbaglio, e l'Atalanta sale al quarto posto domani, Stasera, attendiamo il Milan, Milan-Torino, alle 20.45, vediamo se il Milan si rialza dopo la sconfitta nel turno infrasettimale contro la Juventus. Ragazzi, ci sentiamo più tardi per Milan-Torino, per il video di Milan-Torino. Ciao! Grazie a tutti!